Una raffica di proiettili sparati da un'auto in corsa. Sembra una scena da film di giungla urbana, anche se in questo caso, nonostante un'arma a ripetizione, i proiettili sparati sono di gomma. Era questo il divertimento di una banda di ventenni veronesi, tra cui una ragazza, che ammazzavano la noia prendendo a bersaglio lucciole e transessuali della città, filmando poi le proprie performance con una microcamera. Inseguiti dall'auto di una delle loro vittime, i giovani sono rimasti coinvolti in un incidente e così sono stati bloccati dalla polizia. Interrogati dalle forze dell'ordine hanno risposto che volevano divertirsi un po'. Per due di loro è già scattata la denuncia per lesioni.